Si riaccende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione per quanto riguarda la sanità abruzzese. Il rapido botta e risposta tra l'ex assessore alla sanità della loro aggiunta ad Alfonso Silvio Paolucci e l'attuale in quota Lega Nicoletta Verri è arrivato a margine della pubblicazione dei contenuti del verbale post-riunione del 13 dicembre. Nel documento si parla di un disavanzo di gestione della sanità abruzzese di 107 milioni di euro nel 2021, definito dal tavolo di monitoraggio ministeriale non coerente con il piano di rientro né con le risorse programmate. Le forti preoccupazioni hanno portato l'ente preposto ai controlli a raccomandare alla Regione il presidio dell'andamento dei costi e dei ricavi al fine di assicurare gli equilibri. Ma non basta. La Regione, sentenza il tavolo, non sta programmando una strategia contabile per ridurre questo ingente deficit. Con riferimento alla bozza di programma operativo 2019-2021, si rileva, prendendone atto, che il documento inviato alla Regione non risulta coerente con il recupero strutturale dell'incente disavanzo che si starebbe profilando sull'anno 2021. In tali termini si raccomanda la trasmissione della bozza di programma operativo 2022-2024 anche alla luce delle precedenti richieste dei tavoli, al fine di individuare tempestivamente le misure da porre in essere per la programmazione del prossimo triennio. Analizzando il documento, a preoccupare non c'è solo il disavanzo. Infatti, gli abruzzesi che vanno a curarsi in ospedali e cliniche extra-regionali, ovvero la mobilità passiva, è arrivata ad un saldo negativo di 100 milioni di euro, il 73% del quale definita evitabile. E poi viene sottolineata la mancata consegna del piano di riordine della rete ospedaliera, della nuova versione del programma operativo Covid, la mancata adozione del documento linee di indirizzo per il riordino della rete territoriale, anche alla luce degli obiettivi di potenziamento dell'offerta territoriale previsti dal PNRR. Tutto questo sarà approfondito in sede di conferenza stampa da parte del partito DEM mercoledì 27 a Pescara. Intanto, però, è subito arrivata la replica dell'assessore regionale Veri, che afferma come i dati contenuti nel verbale del tavolo di monitoraggio dello scorso 13 dicembre sono superati e che il documento fa riferimento a dati previsionali e non a consuntivo, assicurando che sono stati adottati i necessari correttivi, i quali hanno permesso di chiudere l'esercizio 2021 senza perdite.